Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, nubi sparse con locali piovaschi. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, coperto con possibili deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, nubi sparse con locali piovaschi.